Un sindaco dalla memoria corta potrebbe essere questa la figura che rischia di fare Antonello Buscema in merito al contratto di quartiere di tre piedi che domani si concretizza, tra le altre cose, nell'abbattimento dei tre scheletri dei palazzi popolari incompleti risalenti agli anni 70 nell'ottica del recupero del quartiere. Nel 2006, di fatti, il Consiglio Comunale approvò il progetto con i soli voti della maggioranza dal momento che l'opposizione uscì dall'aura in segno di protesta su incitamento proprio di Antonello Buscema, allora capogruppo consigliare del PD e di Uccio Barone. Allora la protesta scatui da una presunta assenza di vincoli, a detta dell'opposizione, per agginare eventuali speculazioni con un paventato proliferare eccessivo dell'edilizia commerciare. A distanza di circa cinque anni, invece, l'amministrazione Buscema presenta in Pompamagno un'opera voluta e realizzata dalla precedente giunta Torchi. Buscema però non se ne preoccupa e asserisce che è normale che un'amministrazione possa completare il lavoro di quella precedente. Buscema non si sente neanche di cadere in contraddizione, plaudendo alla realizzazione di un'opera che la stessa sua coalizione stava ritardando perché anche grazie alle nostre osservazioni, dice l'attuale sindaco, il contratto di quartiere renderà migliore tre piedi. Quando il contratto di quartiere fu portato in consiglio comunale alla precedente amministrazione, il centro-sinistra si dichiarò favorevole alla votazione, ma chiesa le 24 ore di tempo per approfondire alcune norme, diciamo, che riguardavano la parte urbanistica. Il centro-destra non ci volle accordare questo rinvio, per cui, diciamo, mancò il numero legale e anziché aspettare appunto le 24 ore di notte, convocarono alcuni consiglieri che erano assenti per mantenere il numero legale, per votarlo in nostra assenza. Quindi non c'è un voto contrario, come si dice. Dopodiché questo fatto ormai appartiene al passato. L'amministrazione poi ha, diciamo, quella precedente ha continuato leader, noi l'abbiamo trovata in un punto che ancora non era l'esecutivo perché appunto non si era fatto niente, l'abbiamo continuato perché penso che è il nostro dovere portarlo al compimento, lo stiamo realizzando. Mi pare che sia sempre, diciamo, sotto dibattito sui meriti, sull'amministrazione Torchi. Le posso citare decine di opere inaugurate in cui, diciamo, erano state impostate, appaltate e fatte alla presente amministrazione. Noi abbiamo, stiamo programmando per il futuro opere che probabilmente, diciamo, realizzaranno altre e contemporaneamente, diciamo, diamo esecutività a opere che altre avevano impostate. Quindi mi pare che è un fatto di procedure di continuità amministrativa. Eppure l'opposizione di centro-sinistra, guidata dall'attuale sindaco Buscema, non solo non condivise mai il progetto anche nelle sue parti più innovative come la rimozione degli scheletri, ma non votò in Consiglio Comunale, come accennato, nei piani particolareggiati, nei singoli interventi previsti nel piano delle opere pubbliche nell'ambito del contratto di quartiere. Questa amministrazione ha anzi impiegato oltre tre anni per avviare le prime opere pubbliche. Grazie.